In un impianto di aspirapolvere centralizzato, la rete tubiera gioca un ruolo fondamentale perché permette alla centrale aspirante di lavorare al 100% della sua prestazione. La rete tubiera, prodotta e studiata da Systema AIR, è specifica per gli impianti di aspirapolvere centralizzato, è materiale PVC, un materiale molto resistente e viene installata in fase di costruzione, ristrutturazione di un immobile o, se volete, anche in abitazioni già terminate. All'interno dell'abitazione la rete tubiera termina con una contropresa che viene incassata nel muro e sulla quale verrà poi montata una presa aspirante che sceglierete voi alla vostra telecine. Vi ricordo che non è necessario installare un punto presa per ogni stanza, ma basterà semplicemente pensare ad i punti strategici in cui andare a installare le prese perché ognuna è in grado di coprire fino a 40 metri quadri di superficie. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!